La Baia di Santa Panagia si è svolta un'esercitazione complessa di antinquinamento, antincendio e di security che ha coinvolto tutto il cluster marittimo. Scopo dell'esercitazione è stato quello di testare il livello di efficienza dei dispositivi antinquinamento e antincendio e delle misure di security del complesso portuale di Siracusa, addestrando il personale coinvolto ad affrontare eventuali situazioni di emergenza reali. Si è simulata la rottura di un braccio di carico ad una piattaforma di caricazione del pontile Isabe in Pianti Sud durante le operazioni di movimentazione del carico nella motocisterna all'IQDM di bandiera italiana. A seguito dell'evento sono scattate le operazioni di emergenza per il contenimento dell'inquinamento simulato attraverso l'impiego delle unità della società concessionaria del servizio di disinquinamento del complesso portuale di Siracusa che hanno prontamente circuito la presunta macchia di gasolio con le opportune barriere galleggianti in dotazione. È stato anche simulato il soccorso da parte della motovedetta della Capitaneria di Porto di un uomo in mare a seguito dell'evento accidentale occorso a bordo a danno di un marittimo della suddetta motocisterna. Il presunto sversamento ha causato un incendio a bordo prontamente domato da parte del personale di bordo e del pontile nonché lato mare dei rimorchiatori portuali dotati di sistemi di monitoraggio antincendio. In ultimo, avendo simulato l'origine dolosa dell'evento accidentale a bordo, è stato testato il sistema di security sia del pontile che della nave in questione in cui sono state messe in atto tutte le procedure previste dai rispettivi piani di sicurezza. Al buon esito dell'esercitazione, ha collaborato in maniera fattiva il personale della corporazione piloti, il gruppo ormeggiatori, il gruppo barcaioli, la società Rimorchiatori Augusta, la società di sinquinamento San Giorgio Mare, la società Guardi e Fuochi Archimede e, non ultimo, il comando ed il personale di bordo della motocisterna al IQDM. Grazie a tutti.